Mostro su X Chiocciola Avanti Bionda. 10 febbraio 2024. Indo sei anni bambina palestinese. Inghiotta nel nulla dalla guerra di Gaza, ammazzata dagli israeliani che hanno bombardato l'ambulanza che l'aveva soccorsa. In un'imboscata studiata per far fuori questa pericolosa terrorista e i suoi soccorritori. Nell'immagine tratta dal quotidiano La Repubblica, mamma, c'è un carro armato. Ho paura. L'ultima telefonata di Ing, sei anni. Inghiottita nel nulla dalla guerra di Gaza.